Senza uova, senza latte, senza burro, questa torta ha il gusto di pere e cioccolato da preparare utilizzando solo una ciotola ed una frusta ragazzi. Zucchero nella ciotola, succo di pera sciroppata o una bella mescolata, olio mescoliamo, farina setacciata, cacao amaro setacciato e poi una bustina di lievito per dolci anche questa setacciata, sempre mescolando con la frusta, non serve altro. Per ultimo uniamo le gocce di cioccolato a vostro gusto, poche, tante, moltissime, fate voi. Versiamo nella teglia rivestita di carta forno la mia quadrata 21 per 21 centimetri, completiamo con le pere tagliate a fette, quelle sciroppate, altre gocce di cioccolato come se piovesse via in forno a 180 gradi per 40-45 minuti. Ovviamente fate la prova dello secchino, io ho usato il succo della pera sciroppata, ma voi scegliete quello che preferite, così anche come la frutta, però pere cioccolato, ma che torta buona è questa, da provare! Ah dimenticavo, seguitemi ragazzi, grazie!